Variazioni al regolamento Game On Il regolamento di gioco si applica alle variazioni globali Game On, interamente, ferme restando le seguenti variazioni, che possono essere applicate su base discrezionale da federazioni e regioni. Esse possono essere selezionate individualmente e non è previsto l'obbligo di utilizzarle tutte contemporaneamente. Le variazioni globali Game On sono rivolte alla fascia più bassa del gioco di base, in cui il reperimento e la permanenza dei giocatori costituiscono spesso importanti sfide. È responsabilità di ogni singola federazione stabilire che cosa costituisce il gioco di base nella rispettiva giurisdizione. Regola 1. Il terreno Le dimensioni di un campo sono adattabili e dovrebbero essere adeguate alle esigenze della comunità di riferimento e al numero di giocatori, per esempio. Rugby ha 10 su metà campo, giocando da linea di tush a linea di tush, con tutte le trasformazioni effettuate in un'unica porta. Regola 2. Il pallone I giocatori adulti del rugby di base possono utilizzare i palloni di dimensioni 4, 4 e mezzo o 5. Regola 3. La squadra L'organizzatore di una partita può autorizzare lo svolgimento di partite con meno di 15 giocatori in ciascuna squadra, con minimo 10 giocatori. Le squadre devono avere lo stesso numero di giocatori. Fin dall'inizio della gara, nel caso in cui una delle due squadre non sia in grado di schierare un giocatore di prima linea adeguatamente preparato o se lo ordina l'arbitro, le mischie dovranno essere senza contesa. L'organizzatore di una gara può stabilire che le partite possono essere disputate con un numero ridotto di giocatori in mischia, con mischie senza contesa o con la variazione under 19 della spinta di solo un metro e mezzo. Le squadre devono avere lo stesso numero di giocatori. L'organizzatore di una gara può applicare le sostituzioni continue attraverso le quali i giocatori possono rientrare in campo purché non siano infortunati. Non vi sono limiti al numero di intercambi. Altre variazioni Game on Aggiunta L'organizzatore di una gara può inoltre applicare la regola della mezza partita, in base alla quale tutti i giocatori devono giocare almeno la metà di una partita. Aggiunta L'organizzatore di una gara può puntare su gruppi specifici della popolazione come iniziativa finalizzata al reperimento o alla permanenza dei giocatori, con competizioni organizzate in base al peso, per esempio, under 70 kg. Regola 5 Il tempo Le partite dovrebbero durare come minimo 40 minuti, ma potranno essere divise in due, tre o quattro tempi di pari durata. Regola 8 Computo del punteggio Il calciatore Se stabilito dall'organizzatore della gara, deve eseguire il calcio davanti ai pali. Regola 9 Antigioco Un giocatore non deve placcare un avversario in anticipo, in ritardo o in modo pericoloso. I placcaggi pericolosi comprendono, tra gli altri, il placcaggio o il tentato placcaggio di un avversario sopra la linea della vita, anche se il placcaggio inizia sotto la linea della vita. L'altezza della vita può essere sostituita con la linea del capezzolo. Quindi, effettivamente, gli organizzatori delle partite hanno tre possibilità. La spalla, come da regolamento attuale, la linea del capezzolo o l'altezza della vita. Regola 14 Il placcaggio Se gli organizzatori di una gara utilizzano la variazione globale Game On del placcaggio sotto l'altezza della vita, si consiglia di accertarsi anche che i portatori di palla non abbassino l'altezza del proprio corpo e che i placcaggi doppi siano sanzionati. Regola 17 Il mark Non si può effettuare un mark da un calcio d'invio, da un calcio di ripresa del gioco dopo una segnatura o da un calcio di attacco eseguito da dentro i 22 metri. Regola 18 Tush Gli organizzatori delle gare possono stabilire che le squadre non devono sollevare e o compiere azioni di contesa in una rimessa laterale. Regola 19 Mischia Gli organizzatori di una gara possono ridurre il numero di giocatori in una mischia con contesa, applicare la variazione under 19 della spinta di massimo un metro e mezzo, oppure applicare le mischie senza contesa. Regola 20 Calcio di punizione e calcio libero Se il calcio di punizione o il calcio libero viene eseguito dentro la metà campo della squadra, il calciatore può calciare il pallone al volo, di drop o piazzarlo, tranne per calciare in Tush. Se viene eseguito dentro la metà campo della squadra avversaria, il calcio di punizione o il calcio libero deve essere eseguito dando un piccolo calcio al pallone e giocandolo immediatamente. Se ti è piaciuto il video o l'hai trovato utile, lascia un like, commenta e iscriviti al canale. Grazie per l'ascolto.